Mercato Inter sarà rivoluzione totale in vista della prossima estate tra calciatori in bilico, in scadenza di contratto, altri che hanno deluso le aspettative e alcuni obiettivi invece in entrata, tra cui diversi calciatori anche a parametro zero. Senza dubbio però quella in corso è stata fino a questo momento una stagione particolarmente strana che si è contraddistinta per gli alti tra la Champions League e i risultati ottenuti sino ad oggi nelle varie coppe tra Supercoppa e Coppa Italia e tanti, tantissimi, fin troppo i bassi in campionato con nove sconfitte, l'ultima nello scontro diretto di domenica scorsa contro la Juventus. Tanto mercato dunque nell'appuntamento di oggi e non solo perché parleremo anche del futuro di Simone Inzaghi, attenzione perché qualcosa sembra muoversi sulla panchina nera azzurra in vista di un finale di stagione, ecco tutto da scoprire. Amici e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio, stiamo, anche se sarà complicato, stiamo per smaltire quella che è stata la delusione di domenica sera, un derby d'Italia che l'Inter non ha giocato bene, evidentemente, un derby d'Italia con tante polemiche, per la rete della quale abbiamo parlato tantissimo, che abbiamo analizzato da tutte le angolazioni, ecco, per cui cerchiamo di andare avanti, non sarà facile una sconfitta che è arrivata nel momento peggiore, con due settimane di sosta davanti, quindi morale completamente a terra in queste due, in questi quattordici giorni, ecco, senza calcio. Però bisogna guardare avanti, cercheremo di farlo, vi ricordo che ne parleremo comunque anche questo pomeriggio in diretta, dalle 19.30, come ogni giorno, per cui per seguirci, per commentare, dovrete essere iscritti al canale, se non l'avete ancora fatto, invito ovviamente a farlo. Oggi però parliamo tanto di calciomercato perché questa mattina la Gazzetta dello Sport ha prospettato una rivoluzione totale in casa Inter con oltre 11 calciatori che potrebbero lasciare la squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport addirittura potrebbero essere realmente, potrebbe essere realmente mezza squadra, in prima pagina di fatti la Gazzetta oggi ha presentato un 11 che potrebbe lasciare l'Inter, e in realtà ce ne sono anche altri che non sono così sicuri di rimanere. Perché, come sappiamo, Andanovic, che è diventato il secondo portiere dell'Inter a tutti gli effetti, andrà a scadenza di contratto a fine stagione, non ha ancora deciso se proseguire per un altro anno, se ritirarsi, se cercare un'ultima avventura da altre parti. In ogni caso, ad oggi, sembra essere più fuori che dentro. Poi, in difesa, la Gazzetta schiera una difesa a quattro, da destra verso sinistra, Bellanova, Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio. Per quanto riguarda De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio, tutti e tre scadenza, Skriniar ha già firmato un preaccordo con il PSG. Nel caso di De Vrij è un po' più complicato perché il giocatore guadagna uno stipendio importante da quattro e mezzo, quindi un ingaggio da top player. Quest'anno è diventato un'alternativa, non più un titolare, dopo l'arrivo in prestito di Acerbi, quindi l'Inter vorrebbe si trattenerlo, ma ha cifre chiaramente inferiori. Il calciatore ha tante offerte, ormai lo sappiamo. Doveva dare una risposta entro febbraio, questa risposta non è arrivata. Ecco, ci fa capire che sta effettivamente valutando le tante proposte, soprattutto dal campionato spagnolo. Poi c'è D'Ambrosio, anche in questo caso sembra realmente complicato che possa rimanere. E invece Bellanova, arrivato in prestito con diritto di riscatto, l'Inter potrebbe non esercitarlo. Centrocampo a quattro con Dumfries, Brozovic, Gagliardini, Gosens. Partiamo da due esterni. Nel caso di Dumfries è evidente il passo indietro realizzato da una stagione all'altra. Se al primo anno aveva, per certi versi, anche sorpreso dopo un adattamento iniziale di uno o due mesi, quest'anno ha fatto male. Anche prima del Mondiale c'è stata la parentesi del Qatar, in cui ha fatto benino con la nazionale olandese. Anzi, un ottavo di finale molto importante, deciso da una rete e due assist. Rientrato però all'Inter, ecco, non ha mostrato quei segnali che ci aspettavamo, quei progressi anche rispetto alla scorsa stagione. Anzi, un giocatore che ha fatto un passo indietro notevole. Se in occasione del Mondiale si discuteva di una valutazione da 60 milioni di euro, ecco, oggi ha quasi dimezzato il suo valore. Quindi non credo che l'Inter avrà grandi difficoltà a piazzarlo nel prossimo mercato. Anzi, uno di quei calciatori che l'Inter vorrà vendere per cercare di far cassa, perché sappiamo che l'Inter comunque ha bisogno di incassare ancora in entrata. Però ecco, difficilmente l'Inter potrà sperare di arrivare a quei 60 milioni di euro. Su Gosens, giocatore che è sembrato in ripresa, nel miglior momento però è ricaduto in un infortunio e di fatti nelle ultime due giornate l'Inter non lo ha avuto a disposizione tra Porto e Juventus. Un vero peccato perché nella sua esperienza all'Inter è stato tanto sfortunato tra l'infortunio iniziale con il quale era arrivato dall'Atalanta. Poi un adattamento complicato, problemi fisici perché effettivamente un giocatore che dopo un lungo stop non era riuscito a trovare spazio minuti, quindi continuità, nel momento migliore ecco torna a farsi male. Anche qui tanti punti interrogativi perché parliamo di un giocatore che potenzialmente potrebbe fare il titolare ma che in un anno o qualcosa in più di Inter non lo è mai stato, a parte le due partite delle scorse settimane. I due centrocampisti, Gagliardini scadenza di contratto, sappiamo già che non rinnoverà, non c'è l'interesse da parte dell'Inter, anche lo stesso Gagliardini non contentissimo del poco spazio che si è ritagliato quest'anno. Brozovic un altro di quei calciatori che potrebbe permettere all'Inter di incassare una cifra importante. L'Inter lo valuta sui 30 milioni di euro, c'è l'interesse molto forte del Barcellona di Ciavi che stravede per lui, che lo vorrebbe come erede di Busquets davanti alla difesa. Non è più centrale come in altre stagioni, Brozovic rimane uno dei migliori play in circolazione non solo in Italia ma anche in Europa. È evidente però che l'Inter quest'anno ha trovato una soluzione interna con Celanoglu, ha investito anche tanto su Aslani, Brozovic ha avuto due fortune importanti tra il primo di fine settembre e il secondo post mondiale, quindi ha perso quasi il ruolo da titolare. Con la Juventus lo abbiamo visto, non è ancora in condizioni psicofisiche quasi perché anche mentalmente sembrava un giocatore poco sul pezzo, quindi mai come questa estate sarà accedibile. Per quanto riguarda gli attaccanti, la Gazzetta propone due punte, Lukaku che è in prestito secco e Marotta ha detto più volte che tornerà al Chelsea, a momento non si parla di riscatto, non si parla di rinnovare il prestito, dovrà essere Lukaku a cercare di dimostrare di essere da Inter in questi ultimi due mesi e qualcosa in più di stagione. L'altro è il Tuku Correa, un giocatore che si è rivelato essere una grande delusione, 31 milioni di euro, la cifra che l'Inter ha investito per lui nell'estate del 2021, tra infortuni prestazionali sotto delle aspettative, ecco, in realtà Inzaghi quel calciatore che lo aveva quasi incantato negli anni alla Lazio non lo ha ritrovato poi in maglia nera azzurra, quindi anche qui il valore si è dimezzato, l'Inter non credo che, non credo che per l'Inter sarà tanto facile trovare degli acquirenti, però insomma un giocatore che in questo momento potrebbe potrebbe andare fuori dal progetto sportivo in vista della prossima stagione. Questo dipenderà però anche tanto dall'allenatore e dedicheremo anche uno spazio. Aggiungo però anche Edin Dzeko, perché Lautaro Martinez è vero che viene da un momento poco brillante, però è indiscutibile, non si tocca, sarà con molta probabilità lui il prossimo capitano dell'Inter, ed Edin Dzeko c'è ancora distanza perché il calciatore vorrebbe un biennale, l'Inter propone invece un anno di contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Il Bosniaco potrebbe anche aprire ad un anno di contratto ma alle stesse cifre che guadagna in questo momento con questo contratto. Da lì nasce un po' la distanza, è vero che l'Inter ha cercato di impostare sia il contratto di Dzeko che quello di De Vrij negli ultimi due mesi, però allo stesso tempo non c'è un'intesa, non si è nemmeno vicino ad un'intesa in entrambi i casi. Quindi Dzeko è vero che c'è la volontà di andare avanti da entrambe le parti, però un accordo ad oggi non è stato raggiunto sia per ragioni economiche che anche per quanto riguarda la durata del contratto, visto che c'è questa distanza di visione da parte dell'enturaggio del calciatore e del club. Questo per quanto riguarda i nomi in uscita. Ben entrata, la Gazzetta ha citato ancora una volta quello di Marco Sturam, giocatore che è vero l'Inter piace, lo aveva già opzionato nell'estate del 2021, prima dell'infortunio e prima quindi di andare sul 2Q Correa, va in scadenza col Monce Gladbach, ci sono anche altri club interessati come Bayern Monaco e Newcastle su tutti. Ci mettiamo dentro anche Firmino, senza alcun dubbio, perché ha già comunicato che non rinnoverà con il Liverpool, e quindi è uno di quei calciatori che per esperienza, per curriculum, potrebbe assolutamente far comodo all'Inter. E poi un nome nuovo è quello di un classe 2000, difensore centrale, che potrebbe diventare l'erede di Mila Screener, stiamo parlando di Omar Solè, centrale del Salisburgo, sta facendo benissimo quest'anno, 23 anni, valore del cartellino su 15 milioni di euro. L'idea dell'Inter è quello di fare un investimento appunto alla Screener, quindi prenderlo per una cifra non molto alta come 15 milioni e poi cercare di farlo esplodere, cercando anche di gestirlo poi in maniera diversa rispetto a come è andato a finire con Screener, che invece andrà via a parametro zero, facendo perdere all'Inter un incasso potenziale molto alto. Tra gli altri nomi accostati all'Inter, piccola parentesi su Pavard, perché ieri ha parlato il suo agente, lui non è uno di quei calciatori che va in scadenza, perché va in scadenza nel giugno 2024, piace tanto a diversi top club, tra cui il Barcellona, c'è anche l'Inter, in passato anche altre italiane si erano interessate al suo cartellino, la gente però ha aperto anche al rinnovo, in un'intervista nella giornata di ieri, ha detto che i rapporti sono ottimi sia con il Bayern Monaco che con Nagelsmann, che lo ha utilizzato con più continuità nell'ultimo periodo, e soprattutto nel ruolo che più si sposa con le caratteristiche di Pavard, e quindi c'è stato un riavvicinamento, ecco perché ad un certo punto, lo scorso inverno pensavamo che questa potesse essere l'ultima stagione di Pavard, in realtà la gente ha aperto clamorosamente. Questo per quanto riguarda il mercato, ecco ad oggi ci sono piste aperte soprattutto in uscita, per via dei tanti contratti scadenza, un altro caso potrebbe essere quello di Acerbi, in prestito con diritto di riscatto, il riscatto potrebbe dipendere però da una riconfermo o meno, quella in panchina di Simone Inzaghi, perché a scuotere un po' il mondo nerazzurro, oltre alla notizia che ha diffuso questa mattina la Gazzetta sulla Maxi Rivoluzione della Rosa, è stato Gianluca Di Marzio in un'intervista per tutto mercato web, parlando del rapporto tra l'Inter e Inzaghi, ha detto qualcosa si è rotto, a prescindere da come finirà, credo si possa andare al divorzio. Poi Di Marzio ha detto dipenderà anche tanto dalla Champions, nel caso in cui dovesse raggiungere la semifinale, ecco tutto potrebbe succedere, però, questa è una parte importante, ha detto Di Marzio, la società pensa di avere una rosa con un valore di classifica più alto rispetto a quello attuale, soprattutto, ecco rispetto a quello che ha fatto, a rendimento poco costante che ha avuto. Sul nome di Tiago Motta ha dato effettivamente conferme, ha detto Di Marzio, so che sotto osservazione non mi stupirei, ci sono richieste di informazioni, però allo stesso tempo ha ribadito, però un contratto col Bologna, i contratti vanno rispettati, quindi è anche rispettoso parlare di Tiago Motta, visto che ha un contratto ancora lungo con il Bologna e sta facendo tanto bene. Questo per quanto riguarda la situazione allenatore, visto che sino ad un paio di settimane fa comunque sembrava fare particolarmente salda la posizione di Simone Inzaghi in panchina, oggi invece chiaramente dopo quanto è avvenuto, dopo la sconfitta con lo Spezia, quella con la Juventus, e soprattutto come sono arrivate queste sconfitte, hanno rimesso in discussione la posizione di Simone Inzaghi, che adesso effettivamente per la prima volta realmente da quando siede sulla panchina dell'Inter può rischiare il posto a fine stagione, poi anche lui ha un altro anno di contratto fino al 30 giugno 2024, però ecco l'Inter non è contenta di quello che ha fatto in campionato, soprattutto in questa seconda stagione. Per chiudere con una notizia di attualità, il giudice sportivo ha comunicato le squalifiche in seguito a quanto è avvenuto nel finale di Inter-Juventus con la mini-rissa tra D'Ambrosio e Paredes. Ecco, per quanto riguarda D'Ambrosio, due giornate di squalifica, 5.000 euro di multa a Danilo D'Ambrosio, Paredes invece, sono stati loro due protagonisti della lite, una giornata di squalifiche e 10.000 euro di multa, ovviamente. Infine, ha comunicato il giudice sportivo, anche 8.000 euro di multa all'Inter per avere i suoi sostenitori, vi leggo il comunicato, lanciato sul terreno di gioco all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria alcuni oggetti di varia natura, senza però colpire nessuno. Quindi, ripeto, due giornate di squalifica a D'Ambrosio e una a Paredes. Anche questa scelta, credo che farà discutere, destinata a far discutere i tifosi nerazzurri. Bene, io vi saluto. Prima però di chiudere, vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio in diretta dalle 19.30. Mi raccomando, seguiteci su YouTube. Se non siete iscritti al canale, fatelo per poter commentare. E vi ricordo, se non l'avete visto, di recuperare il nostro episodio di ieri, nel quale abbiamo analizzato Inter-Juventus, soprattutto, ecco, cercando di soffermarci su quanto avvenuto in occasione del gol di Kostic, su quei tocchi di mano, ecco, abbastanza dubbi sul mancato intervento del VAR, ecco, nel complesso la gestione arbitrale in occasione del gol della Juventus. Per cui, per chi ci segue in podcast, vi lascio il link dell'episodio in descrizione. Per chi invece ci segue su YouTube, vi lascio qui il link e vi invito a recuperarlo.